Imprese che sono state chiuse senza un motivo, delocalizzate, operai che sono licenziati di punto in bianco e gli operai saranno sempre più licenziati con un nuovo sistema di lavoro, un nuovo sistema di lavoro che presuppone che tu possa essere assunto senza motivo, cacciato quando vogliono senza motivo e quindi ricattabile, perché è questo che vogliono da noi, che noi siamo ricattabili, perché quando siamo ricattabili votiamo come vogliono loro e obbidiamo a ciò che vogliono loro. Quindi noi adesso dobbiamo andare a Bruxelles, dobbiamo andare a Bruxelles e gli direi signori a noi non va più bene questo, noi prendiamo questi trattati che voi ci volete imporre e li stracciamo, li buttiamo via, dopodiché ne iscriviamo alcuni che vanno bene a noi. Quindi quando si deve decidere qualcosa che influenza Roma, si chiede a Roma cosa ne pensa, non si chiede a Bruxelles e dopo che Roma ha detto mi va bene, allora quella può diventare legge, non prima, non si fa, perché questi signori che abbiamo adesso, a parte non esserci mai, quindi non si può dire che abbiamo deciso male, perché non hanno deciso, non ci sono mai stati, sono telecomandati, loro non ragionano come possiamo ragionare noi, loro ricevono degli ordini e gli ordini li ricevono dai lobbisti, non li ricevono dalla gente, a loro di quello che pensa la gente non gliene frega niente, perché loro non devono alzarsi la mattina per andare a lavorare, loro devono alzarsi la mattina magari per prendere qualche accordo sotto banco, per venderci quello che resta dell'Italia, questo devono fare, quindi noi andiamo là e gli facciamo fiato sul collo, come abbiamo fatto in tutti i comuni, come abbiamo fatto in Parlamento, cominciamo a fargli fiato sul collo e cominciamo a fargli capire che l'aria è cambiata, loro cercheranno e stanno cercando di fermare il cambiamento, noi il 25 andiamo lì e con una matita il cambiamento lo firmiamo e li mandiamo tutti a casa signori, nessuno escluso, allora, sono stato nei tempi? Perfetto, io mi chiamo Cristiano Ripoli e vi ringrazio, è stata una bellissima giornata, grazie davvero, grazie!